Siamo stati invitati dal nostro amico Pino D'Alessio ad assistere alle prove del concerto di Natale di Gigi Finizio, La notte degli anni. Eccovi quindi immagini e interviste. La notte degli angeli, quali angeli voleranno all'Agustino? I miei angeli, gli angeli di sempre, il pubblico e i miei angeli, ecco i qua. Fotografia di chi va via, nello specchio dei pensieri miei, ti vedo però gira giù non vai. Faccio a pensi la mia rabbia. Senti, questo spettacolo è stato scritto apposto per questa occasione. Sì, anche se devo dire la verità è uno spettacolo che stiamo portando in giro da molto tempo. Non è mai stato chiamato La notte degli angeli. In occasione il titolo è giusto, perché noi siamo i messaggeri di un messaggio molto importante, la musica, che è un'essenza e un'energia che guarisce molto nella vita. Quindi vogliamo reclutare più angeli per formare un grosso battaglione di soldati dell'amore. Chissà se stanno abbagliando gli occhi tuoi. Io mi cerco un po' perché la tua moglie si mette da un metro sulla terra di un vittore che dipinge quello che non c'è. Cosa lasci nel 2004 e cosa vuoi trovare nel 2005? Nel 2004 purtroppo lascio il mio cuore infranto da tutto quello che è successo e spero di trovarne uno nuovo nel 2005.